No, 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 no! E che sarà mai? Tutti contro di me? Tutto il gioco, tutto con la Nexile contro Bear Gaster? Dai affanculo! Altra people! Eh, non... AAAAAAAH! Ma che... Dalla padella alla braccia! Non riesco a fare niente! Pentone dei Cacciatori e benvenuti a questo nuovo video! Qua per Gaster, per provare insieme, giochino nuovo, a mio avviso, molto interessante! Si tratta di Conan Exile! Un survival, ma con un tocco in più? Punto di domanda! Beh, siamo qui per... Schiaffi elettro... Ah, non la libera proprio! Dalla croce? Non so molto! Si dovrebbe basare sulla lore, appunto, di Conan e dei precedenti videogiochi! Ho dato già un'occhiata a quello di cui si tratta, a qualche gameplay! Sembra molto simile a giochi già esistenti! Ora, verrebbe subitamente da pensare, hanno copiato! Sono dei cheap, sono dei bastardi! E questo gioco, quindi, molto probabilmente non varrà i 30 euro che costa! Ma, se invece avessero preso da tutti questi survival già esistenti, vedi Ark, vedi Rust, vedi, ce ne sono ormai una miriade, se invece avessero preso il meglio da ognuno e l'avessero unito in un solo videogioco? Perché la grafica è interessante! I concept sono interessanti! Ho visto che nella mappa, oltre a un classico survival, quindi roccealmeri, ci sono creature giganti, tipo da dominare, da conquistare, da uccidere! Quindi, simile a Rust in questo punto di vista, avrà un multiplayer in cui ci sarà da costruire la propria base e difenderlo dagli altri giocatori che vogliono distruggere per rubarci le risorse! Ci sono monumenti e cose in giro, molto carine, molto belle, non si sa ancora se con funzioni aggiuntive o solamente di bellezza, tipo grandi acquedotti, monumenti e cose varie! Direi quindi di non perdere altro tempo e lanciarci, subito, nella creazione del personaggio! Eccoci qua! Uomo o donna? Uomo direi! Oh, fantastico! L'inizio di una nuova avventura? O l'inizio semplicemente di un nuovo video? Chi lo sa? Razza e religione! Ah, posso proprio scegliere... Ah, quante robe! Bellino con i capelli così! Va bene! Religione! Addirittura! Chrome, set, yogh, mitra! Set è l'unico che ho già sentito! Andiamo con set! Next, voce! Guarda la mia! Non possiamo che scegliere questa! Opzioni della testa! A random, finché non... Tu vai bene! Tu sei perfetto! E magari... Meno... Meno mascara! Così! Body feature! Queste sono importanti! Possiamo farci più piccoli... Più grandi... Giganti dobbiamo essere! Fisico! Massima nudità sul server? No! Ehm... Possiamo scegliere la dimensione delle tette! Anche se siamo un uomo! Belle grosse! Questo qua è... Endowment! Non capisco! E bom! Va bene così direi! Bergaster! Like Riano Tornamiano! Va bene! E quindi qua... Questa terra... Di esiliati! Noi... Dovremmo sorgere! E... Chi lo sa? Magari... Come re? Come singolo? O magari nel creare una nuova civiltà? Chi lo sa? Ed eccoci dunque qua! Ma benvenuti cacciatori! Nel mondo... Osteria! Nel mondo di Conan Exile! Ehm... Come vi ho detto... Classico survival ma... Forse... Non è ancora detto... Con qualcosina in più! Vedete una lore... Particolare! Molto sanguinolenta! E un paesaggio pieno anche di monumenti! Rovine di monumenti! Già roba per noi? Oh guardate le mega tettone che abbiamo! Rimbalzano! E' l'uomo con i pettorali più grossi del mondo! E che costumino tra l'altro! Non andare così a scatti! Oddio! E che sarà? Premiè per interagire! E l'ho premuto! Dice cose! Oh le! E... La vede una cosa fluttuante! Interessante! Per adesso facciamo i bravi! Seguiamo la strada! Ciao ragazzi! Tutti i versi di drago! Di cose! Ciao ragazzi! Voi siete quelli che siete arrivati prima? E non benissimo! Ah! No! Ma io stavo andando di là! Non ho... Come è autostamina? Finito a sta... Ecco! Ora via! Inventario! Non abbiamo un cazzo! Non ci ha stato dato una pietra! Un piccone! I nudi pugni! E ce li faremo andare bene! Lassù abbiamo... Stamina! Che è appena finita! Vita! La sete! La fame! I punti esperienza! E la piuma! Perché no? Voi dite! Qua è finita la strada! Ma dove vado? Qui lì? Di qua? Bella domanda! Ehi là! Là! Guarda quelle due megastatue sullo sfondo! Figata! A per terra non si raccoglie niente! Prenderò a pugno un albero stile Minecraft? Voi dite? Potrebbe avere... Che male le nocche! Iaiaiaia! Piano! Piano! Sembra non far niente! Non mi dà legna! Cos'è sta musica epica? No! Wow! Oh che bestia! Ehi! Mitologica! No! 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 Non mi avrai! Dove sei? Che bestia terribile! Terrificante! Vai via! Teribile! Subito attaccato! Dal gorilla corazzato! No! Rimani lì! Devo studiare! Ho i pugni nelle mani! Però non mi sembra il caso di affrontarti! Devo andare! Stavo dicendo! Pugni sugli alberi! Fanno qualcosa? Li buttano giù dopo un po'? O mi fanno solo male alle nocche? Oh! C'è un altro qua dietro! Meno male che c'è quella pietra lì a bloccarti! No! Non scherzavo! Stavo scherzando! No! Lo sapevo che... Figlio di puttana! Vai via! Vai via! Tu! Oh! Qua c'è tuo fratello! Ma che inizio, eh! Vai via! E pugnazzi in faccia mi prendo! Eh... Ma che sfiga di merda! Eh... Ho i pugni nelle mani? Sì! Questo è un albero! Ah che figo! E su certe cose... Ci hanno messo un po' più di impegno! Un po' più di figate! Bisogna vedere su quante di queste! Ma... Solo con i pugni nelle mani faccio fatica a scoprirlo! Terribile! E... Ci risentiamo quando ho trovato... Qualche attrezzo, qualcosa da fare! Ho scoperto come si fa qualcosa! E fino adesso... L'unica cosa che posso fare è scappare da quelle bestie! No 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 no! No di nuovo un altro! Sono appena riuscito a scappare da quelli là! E voi mi fate... Ecco! No! Ecco! Un po' di giustizia! Ti cazzi! No non venire da me adesso però! Ok! Incastrati lì! Staci per sempre! E non ho stamina per correre! Madonna che mondo di me! Ah si possono raccogliere i bastoncini per terra! Eh ma lo dicevo! Ma l'ho provato e non me li raccoglieva! Resta da scoprire... Resta da scoprire... Con che tasto si apre l'inventario! No no no! Sto cazzo! Merdaccia! Meno nel mio peggior incubo! Fai via tu! Ah! E con i di inventario! Queste sono ricette! Ok! Non sono cose che abbiamo già! Possiamo fare... Uno... Ah! Il coso di set per la nostra religione! Un piccone! Una torcia! Vestiti! Orca la troia! Dove è sto tipo? Sulla spiaggia! Sulla spiaggia mi sembra bella sicura! Vedo chi c'è! Vedo chi arriva! Stai non... Questa si può prendere! Oh si! Pietra più uno! Merda di una merda di un gorilla! Ti odio con tutto il mio cuore! Non è il giorno che avrò un piccone! Te ne pentirai amaramente! Lui non desiste! Non è che dice vado su un'altra creatura un po' più gustosa, un po' più succulenta! No! Vengo a rompere il cazzo a te! Oddio! Altra gente! No 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 no! E che sarà mai? Tutti contro di me! Tutto il gioco! Tutto colon exile contro Bergaster! Date affanculo! Altra people! Eh non... Ah! Ma... Dalla padella alla braccia! Non riesco a fare niente! Fibra! Fabri fibra! Guarda che roba! Aloe vera! E là là! Così! Non è non è non... Di solito sono abituato a raccogliere cose molto distinte! Invece qua le risorse sono nascoste nell'ambiente! Non sono molto visibili come di solito! Interessante! Ora! Abbiamo... Ci siamo liberati di tutti quelli che ci vogliono male! Ok! Mettiamoci nascosti un pochettino! Qua! E! Possiamo craftare un piccolo! Che è la base della sopravvivenza di ogni umano! 5 pietre e 5 posti in cielo! Fallo! Ci mette un po'! Sento ancora le urla di quegli altri uomini però! Ma ora! Sono padroni! Di un piccone! Non se l'aspettavano! Accetta! Si fa tutto col piccolo! Uh! Insetti! Magari delle scarpette! Così non ci si rovinano tutti i piedi! Qua ci metteremo poi gli stivali! Vedete? Ci sono piedi, gambe, mani, torso e testa! E bam! Abbiamo i nostri sandaletti fieri fieri! E qua level up! Imposta attributi! Impara ricette! Gli attributi! Però impara ricette interessante! Quindi non sappiamo fare tutto dall'inizio! Ci serve sbloccare le cose man mano! Non possiamo costruire ad esempio neanche un campfire! E neanche una cetta che si costruisce! Sblocca! Esperto di crafting! Ci sblocca! Il letto di fibra! L'accetta di legno! Ah! Bam! 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 Ma che spavento! Poi cosa abbiamo? Quali pietre si possono scassare con il nostro piccone? Queste sì! Figo l'effetto! Non il solito effetto scarso di pietra che man mano si consuma! Qua si spacca proprio tutto! Come se è la stessa? Anche questa più grande! E vediamo un po'? Scegliamo l'albero da battere! Una palma bella grossa! Questa qua! Vediamo se si rompono così fighe le pietre! Sono sicuro che gli alberi cadono e fanno effetti... Cade! Dove è andato? Un altro! Possiamo sbloccare mercenario che ci fa fare la spada di pietra e lo scudo di legno e il campfire! Ma immaginatevi quando comincerà davvero ad esserci un sacco di gente su questo gioco e su questi server! Le battaglie epiche con scudi e spade! Ora, le abbiamo sbloccati! Li possiamo costruire? Guarda la gente che c'è! Guarda lì! Quanti fuochi! Oh merda! Sto crepando di fame! Ma a parte quello, c'ho una terribile cosa che mi insegue! E che cazzo! Ma cacciatori con questo Bergaster super fail che prova Conan Exile ma fallisce! Io vi dico che per questo video, che sarà abbastanza, vi ricordo sono Bergaster! Un commento qua sotto, non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video! E va ragazzi! Ma bene cacciatori, questo era tutto per il video di oggi! Qua trovate i video di ieri, qua trovate un video a caso e se cliccate sulla faccia vi iscrivete!